Non si può provare a... non lo so, a opporsi? All'ingiunzione? No. Mi sento inutile, non posso... non posso aiutarti in nessun modo. Tu non c'entri niente, Teresa. Ho intenzione di stare via per un po'. Quando? Dove vai? Ovunque la mia auto mi porterà. A ovest. E presto. Ho pensato... che forse ti andrebbe di venire con me. Ci vieni? Sì. Ci venga.